Musica Mi posso assicurare che la nostra forza è quella di continuare a lottare in maniera fortissima. Francesco Guglielmi è il presidente dell'Oleificio Cooperativo I Tre Campagnili, uno dei più importanti di Andrea Provincia. Di questi tempi il frantoio ha sempre lavorato tantissimo, quest'anno invece è fermo. Come tanti altri della zona, colpa della gelata d'inizio anno, che ha fatto strage di olivi e diminuito drasticamente la produzione di olive, con punte del 90% in alcune aree, specie le più distanti dal mare. Solo in Puglia si calcolano 1.600 frantoi danneggiati e 90.000 ettari di oliveti azzerati tra le province di Foggia, Batte e Bari. E c'è chi parla di 800 milioni di euro di danni. Entriamo all'interno del frantoio, nemmeno un uomo al lavoro. Sono lucidissime queste macchine, queste sono macchine che in questo preciso periodo, il periodo che va dall'Immacolata al Natale, è il momento clou della lavorazione. Qui arrivano addirittura 2.000-3.000 quintali di olive al giorno. Un danno economico enorme, specie se si considera che quando l'annata è buona, la cooperativa lavora mediamente dai 60 agli 80.000 quintali di olive. Quest'anno i numeri sono impietosi. Parliamo di un danno di 6-7 milioni di euro, di non fatturato insomma, quindi è notevole. Tenete presente che abbiamo lavorato appena 4.000 con 5-600 quintali di olio appena. All'interno dell'oleificio si respira un silenzio irreale, interrotto solo dalla tensione. Siamo incazzatissimi perché tutto questo l'avevamo previsto, a dire la verità. Noi sin dal periodo di giugno eravamo coscienti che la produzione non ci fosse. Poi affonda. Tutti promettono, tutti stanno promettendo, tutti stanno rimbalzando dalla regione al governo, però noi siamo quelli l'anello debolissimo della situazione. Dobbiamo fare come gli amici francesi, arrivare con i giubbotti gialli per andare sotto la regione, sotto il governo. Nel cuore di Andrea c'è un fantoio che risale al 1870. Anche qui, oggi, non si lavora. Non si è mai vista un'annata in cui la settimana di Natale, che è la settimana più piena solitamente, siamo fermi. Quest'anno, rispetto alle annate passate, che maciniamo intorno ai 22.000-23.000 quintali di olive, abbiamo macinato praticamente la metà. Ci dirigiamo verso la Biolevante, azienda che produce oltre 50 tipi di olio, molti dei quali sono esportati al nord e all'estero. Qui perlomeno c'è un po' di movimento, anche perché la Biolevante possiede l'intera filiera, che va dalla fantomazione delle olive al confezionamento dell'olio, ma non mancano i problemi. Stiamo di fronte a un'annata unica, l'hanno definita orribile, non si è mai verificata nel corso degli anni che la produzione si dimezzasse. E solo la Spagna è esente da questo tipo di problematica. Infatti, quest'anno toccheranno 1.600.000 tonnellate, contro le 200.000 dell'Italia, che purtroppo è solo la produzione dell'annata scorsa che si è fatta in Puglia. All'ingresso del frantoio ci sono 200 quintali di olive, molto meno del normale. Il frantoio, che può lavorarne 800 al giorno, è a mezzo servizio, con una perdita per l'azienda che si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Lungo la strada si estendono intere campagne vuote. Nessuno sta raccogliendo le olive. Negli oliveti decimati dalla gelata si è perso qualcosa come un milione di giornate di lavoro, ognuna delle quali viene retribuita poco meno di 70 euro. Tantissimi braccianti sono rimasti a casa. Ne abbiamo incontrato uno, nelle campagne di Bitonto. Che fa adesso? Al momento niente, perché questi erano giorni che comunque eravamo in piena raccolta. È un serio problema soprattutto per la massa operaia. È vero che abbiamo queste agevolazioni che l'Inps comunque dà alla massa operaia, però gli imprenditori stanno sul filo del rasoio. Buonasera, siamo entrati a gamba tesa nel tema di questa sera. Parliamo di agricoltura. È stato un anno particolarmente duro e questo servizio racconta una parte della storia. Una storia che è ancora più dolorosa, se vogliamo, perché i problemi sul campo sono tanti. Il produttore Oleario nell'intervista ha detto che dobbiamo arrivare a fare quello che hanno fatto i nostri amici francesi. In realtà in Puglia è successo qualcosa di analogo. Certo, siamo su proporzioni decisamente diverse. Però insomma è un primo assaggio, se vogliamo, della protesta che ci auguriamo possa cessare quanto prima e speriamo che stasera riusciamo a trovare delle speranze anche per far placare gli animi degli agricoltori. I gilet arancioni sono stati definiti rappresentanti di varie associazioni agricole che protestano su più fronti. hanno diversi temi che contestano alla regione Puglia ma anche al governo centrale. E perché no, anche all'Europa quando si parla ad esempio di Xylella che è uno dei drammi che stiamo vivendo. Ma soffermiamoci sul problema della gelata, quello che poi ha provocato con lo scenario che avete visto nelle immagini desolanti che abbiamo trasmesso. Gelata che a febbraio ha praticamente distrutto gli oliveti pugliesi, in gran parte soprattutto nella zona del nord barese, l'area di Bitonto, Corato, fino ad Andria. Un danno incredibile che peraltro non si sa se sarà risarcito in qualche modo, in qualche misura. Esattamente come la siccità del 2017 dove invece il risarcimento certamente non ci sarà. Prima di presentarvi i nostri ospiti vediamo quest'altra scheda che parla proprio dei danni delle calamità naturali. Scorrendo la pagina sugli interventi compensativi e i decreti di declaratoria del Ministero delle Politiche Agricole si trovano provvedimenti del 2018 in favore di Toscana, Lombardia, Veneto, Umbria, Campania, Molise, Piemonte, Abruzzo, Marche, Calabria, Emilia Romagna, Sicilia, Sardegna, Liguria, Basilicata, Lazio, persino Valle d'Aosta. Insomma quasi per tutte le regioni d'Italia, meno che per la Puglia. Anzi no, ce n'è una per la nostra regione, ma per via della Xirella. Non un euro per la siccità del 2017, non uno per le tante calamità di quest'anno. Dalla gelata di febbraio alle bombe d'acqua, dalla grandina alle trombe d'aria. Per quest'ultimo è ancora presto, si spera arrivi qualcosa nel 2019. Anche per la gelata c'è ancora qualche speranza. Nessuno invece sulla siccità del 2017. I soldi agli agricoltori non sono arrivati perché in regione qualcuno ha dimenticato di presentare la domanda. Andava fatto entro il 31 dicembre dell'anno scorso, ma ci si è accorti troppo tardi di aver saltato la scadenza. E così tutti hanno avuto la declaratoria a meno che la Puglia. Per la gelata, una calamità epocale per la nostra regione, con 90.000 ettari di oliveti coinvolti, il discorso è diverso. La regione non ha colpe se non un ritardo nella richiesta di declaratoria, che però non è all'origine del mancato decreto ministeriale. Ci sono due delibere di giunta regionale, la 1231 del 10 luglio e un'integrazione del 13 settembre. Il problema in questo caso sta a Roma. Per le gelate, secondo quanto previsto dal decreto 102-2004, non è possibile ottenere il risarcimento dei danni, in quanto si tratta di un evento assicurabile, peraltro in forma agevolata, con un intervento comunitario. Per poter emettere una declaratoria sulle gelate serve una deroga alla legge, che è sempre stata fatta negli anni, ma per il 2018 no. Quindi vige tuttora il decreto 102 e pertanto gli olivicoltori pugliesi rischiano seriamente di subire una beffa al danno. C'è però una via d'uscita. La gelata risale a fine febbraio e in quel periodo gli agricoltori, anche se avessero voluto, non avrebbero potuto assicurare le proprie culture, se non a costo pieno e non in modo agevolato. Solo il 7 aprile 2018 è stato infatti pubblicato in gazzetta ufficiale il cosiddetto decreto prezzi, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. E' quello che fa scattare i tempi per assicurazione, che comunque, sin dal decreto del 6 novembre 2017, sul piano delle assicurazioni agricole agevolate per il 2018, stabilisce termini di sottoscrizione delle polizze e ben oltre la data del 28 febbraio. Insomma, la deroga al piano assicurativo è praticamente nei fatti, ma ad oggi non è stata ancora approvata. La speranza è che sia contenuta nel maxiemendamento. E adesso vediamo se questa speranza si può continuare a coltivare, è il caso di dire. Intanto la presentazione dei nostri ospiti, l'assessore all'agricoltura della regione Puglia, Leonardo Di Gioia. Buonasera, assessore, grazie per aver accettato il nostro invito. E Michele Lacenere, che è il presidente di Confagricoltura Bari. Allora, assessore, comincio da lei. Immagino che lei sia assolutamente consapevole di quello che stanno vivendo i frantoi e tutto il settore olivicolo, come abbiamo visto nel nostro primo servizio. E tra l'altro, mentre andavi in onda, sentivo un suo commento che diceva, quando si parlava della metà, lei diceva magari fosse la metà rispetto agli anni precedenti. Siamo decisamente al di sotto, quindi insomma la situazione è chiara alla regione. E la domanda è che cosa si può tentare di fare per cercare di far avere a questi produttori un minimo ristoro per il danno che hanno subito. Beh, allora, anzitutto il ringraziamento per aver organizzato una trasmissione che ci consenta un po' di raccontare con maggiori particolari quelle che sono le attività, quelle che sono le questioni che veniamo giornalmente ad affrontare. È utile che ci sia di fatto un servizio pubblico a vantaggio di quelli che legittimamente in questo momento sono un po' frustrati, un po' confusi, anche disorientati dal tanto parlare spesso senza cognizione. Nel caso specifico farlo poi alla presenza e con interlocutori che hanno assoluto rilievo e ruolo è ancora credo più utile, quindi immagino che da questa trasmissione emergeranno dei punti di verità che poi è l'obiettivo che noi ci dobbiamo porre. La protesta che sta montando, in particolare quella figurativamente rappresentata con questi giubbotti arancione, mi vede assolutamente vicino alle questioni che vengono poste. Io non penso che la Regione sia una controparte, non penso neanche che il Ministero sia una controparte. Io credo che l'effetto però di tante scelte amministrative che nel tempo si sono sommate oggi ci portano a una sorta di resa dei conti, che significa sicuramente trovare delle soluzioni emergenziali ma probabilmente anche cambiare un po' le regole con le quali viviamo e discipliniamo materie come per esempio quella della calamità. In conferenza delle Regioni, dove la Puglia ha questa guida anche organizzativa di tutti quanti i colleghi, più volte abbiamo chiesto ai vari Ministri di modificare una legge anacronistica. La legge sulla calamità è una legge vecchia, dei primi anni 2000 ed è una legge che ci porta a dover fare delle valutazioni in campo, su territori molto ampi, in tempi molto limitati senza più l'ausilio delle province che nel frattempo sono state, non saprei neanche se dire estinte nella funzione oppure semplicemente limitate da zoppate, quindi con difficoltà burocratiche e amministrative sconosciute negli anni scorsi. Anche perché a Carliolive ad esempio i danni si possono vedere molto dopo. Poi c'è anche la tecnicalità agronomica, danni che sembravano essere inesistenti in prossimità degli eventi di febbraio e marzo si sono dimostrati devastanti a distanza di tre mesi, di due mesi, in fasi diverse della fioritura e quindi anche poi di quel momento in cui era più possibile da parte nostra fare delle valutazioni. Quindi vediamo e viviamo assieme ai nostri agricoltori questo disagio, ragioniamo per risolverlo in questa fase emergenziale valutiamo però delle modifiche regolamentari e normative che ci consentono di andare incontro alla domanda che arriva per fenomeni che sono ormai diventati quasi catastrofici non esistono più le calamità estese molto territorialmente ci sono calamità molto più puntuali, molto più catastrofiche, devastanti in alcuni casi bisogna cambiare il limite del 30%, è difficile andarlo a individuare è difficile capire a livello aziendale se c'è un danno tale da poter essere computato ai fini del ristoro quindi fatta questa premessa ovviamente poi dal servizio ci sono delle ricostruzioni che si potrebbero andare ad analizzare anche un po' meglio sicuramente abbiamo bisogno di una legge nazionale per l'evento di febbraio e di marzo e su questo il ministro è stato chiaro noi non lavoriamo in una contrapposizione ideologica né di partito noi siamo dalla stessa parte il ministro è un amico della Puglia, lo ha dimostrato per le questioni che riguardano la Xilella non c'è un pregiudizio legato al fatto che questa regione abbia un governo diverso da quello che in questo momento è a livello nazionale il ministro ha dato mandato ai suoi uffici abbiamo scritto assieme la norma che può consentire la deroga abbiamo scritto assieme tutte le procedure conseguenti quindi anche come si dovrà poi attivare la declaratoria e quindi quello che sarà il compito della regione aspettiamo che il Parlamento faccia proprio questo atto che deve entrare nel maxi emendamento ovviamente nella difficoltà anche organizzativa dei lavori parlamentari sul bilancio si sconta molto poi il fatto che questo emendamento sembri marginale perché riguarda una sola regione e da questo punto di vista io confido però che noi arriveremo ad un esito positivo il ministro e il sottosegretario che è intervenuto anche in un presidio telefonicamente con gli amici oggi presenti ha pubblicamente detto che è intenzione farlo e che il ministero farà tutto per poter entrare diciamo in quel meccanismo di selezione degli emendamenti che passeranno quindi abbiamo da aspettare ancora qualche ora la fiducia si voterà più o meno contestualmente alla trasmissione che stiamo diciamo oggi nella quale stiamo parlando quindi su questo possiamo penso attendere ancora con soddisfazione potenziale gli esiti sulla questione della siccità io da un punto di vista amministrativo riporto qual è la posizione dei miei uffici non c'erano le condizioni di accesso a quel decreto e a quella opportunità poi capisco bene che invece c'è un sentimento diverso da parte degli agricoltori però di fronte a una burocrazia farraginosa con tutti i limiti del caso l'assessore che è il rappresentante politico della struttura non può che tenere fede a ciò che i nostri dirigenti hanno firmato e sottoscritto faremo delle valutazioni per capire se hanno ragione e se quindi la posizione che viene invece posta dagli agricoltori è vera se fosse così ovviamente dovremmo assumere dei conseguenziali atti che significa una riorganizzazione una rivalutazione di quelli che hanno questo onere di dover istruire sintetizzo se c'è una responsabilità non passerà sotto silenzio sicuramente io non sono abituato a scaricare responsabilità se è un problema dell'assessorato lo valutiamo con gli strumenti dell'assessorato che hanno a che fare con la individuazione di quelli che sono gli iter amministrativi e con la individuazione delle responsabilità amministrative se questo è saremo conseguenziali se questo non è continuiamo a difendere la struttura che è l'unica struttura in questo momento in grado di organizzare, di articolare, di istruire una serie di atti che sono vitali per gli agricoltori ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità ma non esauriamo il discorso legato all'olivicoltura i frantoi a quello che stanno vivendo perché il problema è veramente molto importante per la nostra regione al rientro della pubblicità guarderemo un servizio sull'olio che sta entrando in questo momento in Italia e un'altra parte della storia poi subito dopo ascolteremo la posizione di Confagricoltura dopo la pubblicità grazie